Mini microfono with USB-C adapter. Allora, questo è un mini microfono con clip, comprato da Action, al modico prezzo di 2,99€. Questo è l'audio senza, e tra poco vi metterò anche l'audio con il microfono. Speniamo se si nota qualche differenza e se vale la pena spendere quei famosi 3€. Allora, al suo interno abbiamo un adattatore e una custodia che contiene 1,5 metri di cavo con la clip e la lavaliera. Questa è la lavaliera, questa è l'attacco e questo è tutto il cavo. Per la modica cifra di 3€, 2,99€, abbiamo questo. Adesso la proviamo, facciamo una prova e vi faccio sentire se si sente davvero la differenza. Il microfono comunque ha un diametro di 2,2 mm. La sensibilità del microfono è da meno 34 dB fino a più 2 dB. Il range della frequenza è da 100 Hz a 16 kHz. L'input del microfono è un 3,5 mm. Ho anche un convertitore che è un 3,5 mm femmina. Ha USB-C Type-C da 11,5 cm. Il cavo è lungo 1,2 metri. Il peso è di 33 grammi soltanto per il microfono. Invece 45 includendo anche il convertitore e la scatola. Peso complessivo 45 grammi. 2,99€ da Action Store. Grazie aаков cautious. Orione ai. Orone in altri. Poso stabili. iralta